50 anni del Baseball Softball Club Rovigo sono un motivo di orgoglio per la nostra città? Sì, assolutamente, veramente un motivo di orgoglio anche perché sono 50 anni di attività solida, continuativa che ha portato questa società a crescere costantemente, ad arricchire il panorama sportivo della nostra città anche con eventi importanti, con atleti di spessore, con squadre che giocano in Serie A e con una grossa attenzione al sociale che nel tempo è arrivata a definirsi in maniera sempre più importante all'interno di questa società per cui abbiamo anche, ci tengo a ricordarlo, le squadre del softball per ciechi pertanto si dà la possibilità anche a persone con disabilità di fare questo sport e tra l'altro sono seguiti da degli staff molto preparati Sì, è stata veramente una bellissima avventura, l'avventura che dura 50 anni, 25 anni che sono presidente del Baseball direi che è stata una cavalcata a volte anche infernale perché va tutto bene ma se pensiamo che ci sono stati anche dei momenti piuttosto difficili, nonostante questo ogni anno si ripete questo risultato prestigioso che anno dopo anno i nostri ragazzi raggiungono chiaramente non è solo fortuna, è tanta preparazione, impegno da parte di tutti un particolare ringraziamento lo devo ai genitori, i genitori che ci danno fiducia le hanno fiducia nella fidarci i figli, i loro figli che noi in questi 50 anni siamo riusciti a portarli a portarli grandi, a crescerli in un ambiente sano e con sicura moralità questo direi che è già il raggiungimento del nostro fine Baseball Night è un po' rivisto perché racconteremo anche con l'aiuto di alcuni amici di società sportive lo sport rodigino degli ultimi 50 anni, non mancano gli amici di tanto per ridere a rendere piacevole la serata, avremo qualche piccola sorpresa, sarà anche nostro ospite Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi, insomma un mix tra racconto e divertimento che è un po' il senso della serata, in piazza Vittorio Emanuele ritorniamo dopo, sono ormai tre anni l'ultimo anno era il 2019 e quindi siamo pronti, dobbiamo solo aspettare le persone veniteci a trovare alle 9 qui in piazza Vittorio Emanuele